Può accadere nell'anno di Grazia 2022, quasi 2023, che un'ambulanza si apriva a bordo di medico ed infermiere? A quanto pare sì, dalle nostre parti tutto pare sia ormai possibile. Ed in effetti la dimostrazione è in quanto accaduto qualche notte fa a Monte Sant'Angelo, dove un uomo è stato soccorso e successivamente trasportato a San Giovanni Rotondo per un intervento chirurgico anche abbastanza delicato. Ambulanza che è arrivata dopo una ventina di minuti di attesa, ma priva, come detto, sia del medico che dell'infermiere. La cosa ovviamente ha scatenato le reazioni anche del mondo della politica. Il deputato di Forza Italia, Gian Diego Gatta, per esempio, si chiede che fine abbia fatto la medicalizzazione del 118 di Monte Sant'Angelo, sbandierata dal governatore Michele Emiliano e dalla sua giunta. Sulla questione non si è fatta attendere anche la replica dell'Asle di Foggia, che ha spiegato che sporadicamente alcuni turni possono risultare non coperti a causa della carenza cronica di medici e che dunque si tratta di un fenomeno isolato. Cresta tuttavia lì a testimonianza di un servizio, quello di emergenza urgenza, che va potenziato assolutamente e non soltanto con le parole.